Con un movimento lento, che ti parte da dentro A sapore il momento, niente spavento, music ma è un l'istrumento E se vieni con me, scopri un mondo nuovo per te Scopri un mondo nuovo perché, non ti sei mai chiesto a dove E dietro ogni via, io e la gente mia Corriamo pensi che sia follia Voglio dire alla polizia Vieni con me, vieni con me Stopri un mondo nuovo perché La domanda è, preste una lezione con una persona che si trova a letto ma non ha un'ambizione nella vita Allora, personalmente no Perché quando conosco una persona, prima che andiamo a letto Voglio sapere, voglio sapere quello che fai nella vita Dove vuoi andare, com'è intenzione di prenderti cura di me Quindi, secondo me c'è andato a letto Prenderti cura di me Se sto in una relazione con una persona di prenderti cura di me In che senso? La mulla Nel senso che non voglio essere l'unica persona in una relazione che mette soli Che l'amore mette soli in una relazione Ma relazioni intendi fidanzati o sposati? Io voglio sapere questa persona che sono in una relazione per gioco Quindi Però è bravo Per me, per me Eh? Ma lei sta dicendo che quello si può sempre imparare Lo scopro dopo? No, quello si deve sempre imparare è scelta Si può migliorare, si può migliorare, si può migliorare Eh, è 10 È come quando non si è accaduto La terra è finita Però è una cosa di studenti Le gambe ti crescono, questo qua non ti cresce Eh, quello è... Ma lei non c'entra niente quello Non c'entra niente Non c'entra, non c'entra Non c'entra, non c'entra Non c'entra Non c'entra Sinceramente posso dire una cosa Poi magari sto zitta per tutta la puntata Per favore Vali per chi sei piccolo, ti conosco bene No, 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 no È stato un po' crudele da parte di... un po' incredibile nooo oh oh volevo dire sinceramente se devo stare con una persona basandomi su quello che ha in tasca le sue ambizioni penso che non sarei qua e non sarei messo in nessuna relazione perchè alla nostra età nessun ragazzo della nostra età sa comunque cosa fare per arrivare dove vuole arrivare è vero 23 anni non vuol dire che solo perché siamo giovani nel senso 18 anni siamo scemi quindi io per esempio ho 18 anni per la maggior parte dei miei amici sono 5 o 6 anni più grandi di me e reagiamo ugualmente l'ambizione può anche venire può anche venire con la persona con cui stai se tu sei una persona ambiziosa e tu moroso non lo è tu con la tua ambizione potresti anche portarlo a voglia di fare io mica sto a fare la mamma eh io ho la donna tua io mica sto a tua madre tu ragioni così io secondo me io sto con un uomo che non è ambizioso così ambizioso io ci starei sempre a paletto ci starei perchè comunque mi piace mi piace mi piace e quindi la relazione se a me piace davvero non solamente sessualmente potrei portarlo a dire oh amore guarda potresti fare questo questo per migliorare noi come coppia e tu come persona se non gli va però dipende se la persona è pigra perché non l'ambizione non che non è vero non necessariamente alcune persone vogliono stare lì perché sono comune di dove sono non ha la motivazione per cui dirò voglio di io voglio arrivare là se tu trovi una persona abbastanza mature abbastanza forte da dirti guarda puoi fare questo 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 so che è difficile poi farlo a me è successo a me è successo nella vita di trovare davanti a delle persone che non avevano ambizioni all'inizio però con il mio dire comunque guarda io mi aspetto questo 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 questa persona da qua è arrivato piano piano a crescere vuoi fare un esempio concreti magari nel campo lavorativo magari gli stava bene solamente a fare lavapiatti o da lavapiatti non gli è mai venuto in mente di oh posso lavorare in cucina si lavapiatti non lavora in cucina in cucina si deve fare poco capito sono più soldi e un'ambizione in più e dopo questa cosa qua che ha lavorato in cucina si è iscritto al college e al diploma di chef capito sono cose che piano piano non puoi non puoi tipo sinceramente trovato un ragazzo completo però ti posso fare una domanda ma gli andata bene a questo ragazzo completo comunque mi è andata bene a sto ragazzo che magari ti ha ascoltato e se non ti ascoltava e tu ce l'hai divinato due anni mi godo il sesso finchè 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 a me finchè a me non mi serve il diagra finchè non mi serve l'aiuto ragazzi se non ti stupi chi se ne frega dell'ambizione finchè il sesso ti va bene finchè non ti stupi ebbene qualcuno che sa farlo bene e anche ambizioso e lo molli non è la stessa cosa non è che lo mollo perché l'altra persona lo mollo perché non mi piace più io preferirei una donna ambiziosa se non è bravo a letto ma si maleno io per me l'ambizione è non essere una scansa fatiche quindi se tu per esempio sei lavatiati ok almeno lavori la valli bene e giochi con i video giochi vendi la droga e le volte non ci sono perché se non scansavano vedi la droga è un'ambizione eh ma doveva lanciare il prossimo il ciocco è un esempio quindi per me l'ambizione è fare quello che fai nella vita nel senso che vuoi essere una piatti fai una famiglia non c'ho soldi eh sì non sono soldi però stai quello che vuoi nella vita esatto quando fai il colpoglio ci fanno un po' ambizioso però fai nel senso quanti soldi fai il no però fai nel senso quanti soldi fai il no e progredire a fare molto più no ragazze dipende pure quanti soldi fai hai capito no quando devi mandare quando devi comprare cose che ne so per tuo figlio eccetera poi scegli da un prodotto e lui dice no non c'è soldi devi comprare quest'altro prodotto gli soldi sono importanti quando io penso ambizione quello che mi viene in testa è vedere una persona che sta facendo azioni verso qualcosa che ci sono soldi cresce se per esempio tu come ha detto prima lei lo so come ha detto prima lei come ha detto prima lei non era del tutto sbagliato dire se sei ambizioso a fare 50 scuole però se tu mi dici che vuoi fare 50 scuole e sei a casa a fare un cazzo sei ambizioso nella tua testa bravo grazie per sacrificare i punti grazie guadagnare un applauso ti snappa al piscale è l'infettente è l'infettente è una domanda la stiamo rispondendo soltanto dal si nessuno vuole parlare vediamola io penso che giriamola verso i maschi voi starete con una ragazza soltanto per il sesso rispondo io non ci starei mai con un uomo che senza ambizioni è bravo solamente a letto perchè perchè l'uomo che è bravo a letto lo posso trovare da bravo bravo io per come sono fatta io personalmente no in una relazione intendo perchè se voglio semplicemente chiamare posso fare un amico con dei benefici il punto è questo qua se devo costruire una relazione proprio con qualcuno io una persona che sinceramente è senza ambizioni ci starei mai perchè io di mie ce le ho so cosa voglio nella vita e poi ho una persona che accanto a me sappia cosa voglia perchè non vuoi aiutare perchè io non mi posso preoccupare ma io me ne vado a trovare un altro se tu non sai quello che vuoi fare un amico se tu non sai quello che vuoi fare un amico se tu non sai cosa vuoi fare un amico come hai detto te tu non puoi aiutare il tuo amico a crescere ovvio se sono solo io che li faccio da mamma allora non funziona cioè alcuni ragazzi ovviamente no mentalmente sappiamo che si sviluppano molto più eeeh ok mentalmente siamo un po' le loro mamme sempre anche adesso mio papà sinceramente parlando mia mamma ha sempre quel controllo in più mentalmente di mio padre papà mio papà prima di arrivare come si chiama non ci stava neanche pensando prima di incontrare mia mamma mia mamma l'ha aiutato comunque a dire okey ho fatto una figlia ok devo Emhy! Aspetta, aspetta, aspetta aspetta Aspetta, aspetta, aspetta ha fatto una figlia quindi che significa gli altri dev... ma so non, sì prima non avevo quell'ambizione lì ma hai fatto una figlia quindi di conseguenza lo mette il mangerea a casa non l'hai lasciata perchè non avevo l'ambizione qui voi lo lascio perchè lo lancio Se portava i soldi a casa Se portava i soldi a casa Tu padre stava fuori no? Portava i soldi a casa Ma non ha mai pensato Capito? Di arrivare in quel punto lì I soldi bastavano Ma mia mamma le faceva i soldi Quando i soldi non bastano la donna Non è vero Non tutte Cioè se tu lo fai per necessità Non lo fai per ambizione No, lo ha fatto perchè comunque ha avuto qualcosa Non sa che l'ha spinto a dire Voglio arrivare da qualche parte Capito? Se tu non hai la motivazione per dire Ok, voglio progredire nella mia vita Voglio fare questo, questo e arrivare Capito? Ma nel tuo caso Puoi essere solo te stessi la motivazione La motivazione può essere anche solo te stessi Le cose le faccio per vendita Ma qua si parla di persone che comunque Ambizione non ce l'hanno Cioè non hanno nessuna motivazione Per arrivare a dire Voglio fare questo, questo, questo Non ce l'hanno Quindi se hanno Qualcosa Che gli spingono a dire Ok, sono una papiatti No, voglio fare di più Voglio arrivare a questa Non c'è niente di male Cioè ragazzi Non so cosa state dicendo voi No Per me dipende dal contesto Da dove sei cresciuto e tante cose E questo qua ora ti spiego Cioè io personalmente Io che sono nato a Roma Secondo me Quando io sono arrivato qua Per esempio Prima lavoro L'ho trovata per commesso No? In un modo Vabbè Commesso Per me sarebbe una cosa Che se stavo in Italia Lavoro, oddio Bellissimo Bellissimo Lo posso fare per tutta la vita Cazzo Commesso Lo devo mettere su Facebook Tutti lo devono sapere Quando stai col tempo Tu dici Ma cazzo Perché io mi sto chiudendo Una cosa così Quando dovrei essere Qua Sei ambizioso Se lo sei imputato Ma lo capisci col tempo Col tempo? Non ci prendiamo niente Ma va bene Però nel mentre L'hai capito da solo? Nel mentre aspetta Ci sono quelle ragazze Che ti conoscono E neanche Il nome te lo chiedono all'ultimo Prima che lavoro fai? Che banca c'hai? Quella è la domanda E alla fine Io non voglio quello Io voglio Comunque Se mi interessa da me E poi viene il dopo Tu devi avere accanto a te La donna che ti fa Adere a crescere Perché questo è il tuo Dietro ad un grande uomo C'è una grande donna Però se la tua donna è di merda Sì Concordo Non è che hai accanto a te Ma non è che ci si parla Ma non è che ci fa Ma non è che ci sono Ma non ne ha capito E non è che ci sono E non c'è Ma non c'è E non c'è E non c'è E non c'è Ma non c'è La donna vuole il successo subito E non c'è Non c'è Non c'è Il meno Vuole fare Moleno Che è Non c'è io sincero penso più che per quanto riguarda la domanda bisogna contestualizzare riguarda le esperienze che ognuno di noi ha che ha costruito fine d'oggi in questa vita quindi non ragionare del sì ipotetico cioè confrontazione su cose che tu realmente hai provato sulla topel nella mia esperienza nei miei 23 anni diciamo che sono stato con persone che magari a letto cose assurde assurde però che oltre a letto non ci puoi condividere niente perché non hanno il tuo modo di pensare perché io comunque sono una persona che ho visto gente con i soldi e voglio diventare come loro partendo però dal basso se non ho a fianco una persona che la pensa come me a lungo andare sì mi diverto sto bene ma sarei sempre un mio giocattolo cioè condividi un rapporto a non a 360 gradi ma a 360 gradi indubbiamente lo faccio complicendo ma infatti lei è complice di questo sa che abbiamo io ti parlo di quello che io ho fatto sono stato con una persona con cui ci ho condiviso sei mesi dove lei conosceva il mio carattere io conoscevo il suo carattere uno prova costruisce poi alla fine si rende conto che le cose comunque le vediamo in modo diverse e poi quando si è scocciato si è scocciato ho conosciuto un'altra donna invece l'opposto che magari più inesperta sotto il punto di vista sessuale però che condividiva i miei stessi progetti nel mio stesso modo di vedere le cose e il mondo e alla fine ho costruito molto con lei se il tuo partner non è bravo a letto non lo noti quando lo ami? invece no ma cosa stai? nooo 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 che tempo ti senti, oh se ho detto dici laạn e poi rispondo subito non lo vedi non lo noti non lo vedi non lo noti non lo senti nel andre che te ne so fare mavi serio? Ma chi sei? Ma che persona sei? Ah, posso rispondere a te o a tu? No, no, fa la parola! Il sesso è andare dentro fuori, dentro fuori, dentro un buco No, secondo me se non ci sono emozioni No, quello è amore, non è il sesso, è l'amore Quello è l'amore, è diverso, il sesso, sesso... Il sesso... Il sesso stava a combattere Il sesso stava a combattere L'amore è strategia, il sesso stava a combattere Se tu è una persona non ci fai sesso e amore, no? Non tutti, non tutte le volte Cioè, sesso e c'è l'amore Faccio sesso e amore, la mia donna Faccio sesso e amore Il sesso è quello che te prendo e comando Te prendo e comando Te prendo e comando Concordo Perché non concordo? Ma io ti fai risponderti Cioè, il sesso e l'amore con la propria donna E' importante Il 60% dei ragazzi Sessanta? Sono il 60%? Sì Sessanta, circa Sessanta, circa Perchè? 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 la persona quella no, il senso non conta ma conta, conta parecchio cosa ambizione è tutto, si porta tutto a casa e poi quando siete a letto fa un pam pam o viene che tutto nasce della tua vita? nooo un'ottima a lezze non mi piace non mi piace attenzione o no mappa o no mappa o no orecchamini che mi piace 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 chiariamo c'è un poco da chiarire ma non lo metto in mano e non ci capisci nooo e pam pam tu come si dice tipo cosa che non è non è colpa sua si stai forte e cosa è il signor Getty chi è il signor Getty per Spice of the Sex Life oh oh ci sono altri modi ci sono altri modi ci sono altri modi per avere piacere ma le persone non è il tuo uomo che fa il lavoro lì non è gratificante come il tuo uomo che è l'oggetto lì lì non è l'apporto fisico lì è l'oggetto perchè ci pensi? e ti trovate ancora in quella situazione e perchè comunque l'ambizione è per te è sensibile è brava l'azzo che significa che il ragazzo può fare per due ore si ma non lo è proprio quindi per te la propria e tu mi rimando presi dire si non mi possa quello io non capisco perchè comunque ti ho messo un esempio drastico sareste con un ragazzo che dura 60 secondi si o no? hai capito? questo ragazzo non ho però la domanda mia è tutta no la realtà è che un po' caglie so eh lo sanno questo ragazzo fa stesso che esce ogni volta ogni giorno della tua vita per tutta la scelta cioè vieni scusa cioè stai bene ti fa stare bene però hanno un'ambizione per tutta la tua vita tu provi 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 non fai niente non aggiunge niente non rimane lì com'è raggiungi qualcos'altro quindi cosa fa? allora Tunzi mi piace nel senso che mi piace il fatto che nonostante tutto cioè esprima la sua opinione e non abbia paura di andare in galera perchè effettivamente vero opinioni del genere dove vengo io? va in galera sicuro però lui è coraggioso e c'è da ammirare il fatto che sia coraggioso insomma dipende dai punti di vista alcuni potrebbero pensare pure un c***o che scemo però vabbè no dai penso che sia coraggioso mi piace Tunzi io personalmente eh questa è una brava personalmente che io starei con una ragazza che ha poca ambizione ma non nessuna ambizione ma non ci starei per il sesso ma ci starei per capire per tutti gli altri attributi che è brava come persona che ascolta si si infrano solo per sesso per scopasero devo stare anziano a te devo sposarti ma stai scherzando? ma quelle che scopano la telefonata però per me l'ambizione conta ma relativamente a me io sono più preoccupato della visione che dell'ambizione cioè sono più preoccupato di come vedi le cose piuttosto di se tu si alzi e le fai per forza sono più preoccupato di te che riesci a vedere un'opportunità anni luce non devi stare là che lavori giorno e notte si ma devi pensare al presente devi pensare di prendere il concreto ma io sono uno di quelli che paga lui si però a me non mi frega se tu non hai soldi non mi frega se tu hai ma dell'ambizione non siamo agli anni in un rapporto super serio cioè io comunque non mi aspetto che contribuisci capisco la tua voglia di indipendenza di avere soldi da parte tua e tutto quello lo posso rispettare ma aspettarmi di venite a chiedere oh amore a bolletto a stanno questo mese sono 500 dammi 200 ma no ma non è una cosa che la mia donna mi deve chiedere no sono io che vado una re no ma io non vengo da dire una cosa di verità ma è venuta una cosa che sono una cosa condividiamo tutto io non lo sento né un peso né un'opportunità siamo un'unica cosa che va avanti in una casa africana in una casa africana non la vede non vale la cultura è un uomo che paga città un uomo che paga città che non la vede così in questo momento se stavo con una donna che non lavora no che non lavora però proprio come sto abituati a casa è diverso tu vai da lei e gli dici oh guarda amore siamo nel 2017 2018 cioè io per me non è una cosa cioè io quando entro in un rapporto non parto dal presupposto che la donna deve mettere quanto metto perché a me sinceramente non me ne prega niente io parto dal presupposto che io devo stare abbastanza bene per tutti e due poi se lei ha l'ambizione sua vuole fare tutto eh fantastico mi piace però a me l'importante è che io non ti sto a parlare e tu non capisci quello che ti dico capito? perché non hai cioè tu devi vedere capito? devi vedere si a me non c'è più quale della visione ho detto che è importante per me no però comunque il sesso è importante però io non starei con una ragazza solo per sesso proprio c'è secondo me non c'è c'hanno ragione troppi ce ne stanno la cittadina se la torta si sbagli fa senza no 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 però c'è la verità che nessuno sta dicendo ok tu dici il sesso l'ho messo su quel punto di vista però ci dimentichiamo quando uno mette le corna uno va altrove e prendo qualcun altro quello che vuole il tuo partner non ti dà lasci andare quindi quando uno ti mette le corna cioè non è solo un fattore economico eccetera ma c'è l'altro fisico se la tua ragazza fa determinate cose tu non vai a cercare un'altra persona poi ci sono pure in quei casi da ragazzi dopo fa tutto dunque sia sempre goloso ma tu che sta dicendo però che è un'altra domanda tu perché la tua donna non è brava a fare determinate cose se ti giustifico a mettere le corna assolutamente no se devi cercare il tuo piacere da altrove assolutamente no ci sono anche quei casi lì ma quella non è una motivazione cioè non è una spiegazione non ti giustifico ma è un principio però è un principio però è un principio cioè quindi quando diciamo che è l'amore va bene ma è importante ragazzi io dico almeno il 60% in quanto anche di più ma riguardi con la deficiente solo perché scopla bene nooo ma ci non è troppo è troppo ma io mi amore avevo detto che io mi sono tratto oh 60% ho detto 80% 85% cioè io no io no io no io no io no ma si tirate indietro però avete detto 30 secondi fa io non l'ho detto 30 secondi fa io ho detto 60% e tu mi hai risposto 65% anche di più io ho detto io se chi ha detto 80% io ho detto 80% assolutamente no assolutamente no ragazzi il senso è importante però ci sono altre cose ok l'intimità si crea in altri modi non solo col senso però aspetta se fosse ragazzo dura 60 secondi ma che cosa stava ma che cosa stava mi ha capito è importanti ragazzi però ci sono cose estremizzate troppo ragazzi no perché se devi messaggiare è stiamo dicendo che è importante però c'era piccolo cosa faccio amore oddio non lo facciamo però è piccolo cosa faccio però è piccolo libero albergo albicolo albicolo piccolo quando la piccola piccola rarriamo albergo rarriamo albergo rarriamo rarriamo c'è anche la bocca il rarriamo albergo No, comunque, come la penso io, come sto per dire prima, la penso proprio io, come lui, perché è un'unica cosa che bisogna dire, però spero che c'è un assurdo. Ok, il sesso ha la sua importanza, perché tu voglia chiamarlo sesso, voglia chiamarlo amore, ha la sua importanza, però come la vedo io, il modo in cui sono cresciuto io, puoi anche decidere, tu come ragazza puoi anche non avere ambizioni, però mi darebbe veramente fastidio se tu non hai ambizioni e non prendi sul serio le mie, è tutto quello che ti chiedi. E intanto mi rimane il dilemma, voglio so che l'amore, voglio so che l'amore, voglio so che l'amore, vita senza raccordi, voglio so che l'amore, voglio so che l'amore, voglio fare un milione Per fare un milione, per fare un milione, coi soldi per fare l'amore PUA I FARE L'AMORE Like, boom!